Formula 1, MotoGP Rally, in questa puntata di Parferme che partirà tra poco, ospite uno dei più promettenti piloti italiani, Kevin Giovesi, a tra poco. Grazie a tutti. 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 A proposito di categorie inferiori del motociclismo, parliamo un pochettino di questa Formula 3 di Kevin Giovesi, che mi sembra il tuo ritorno nella serie italiana è stato parecchio scalpore, perché si sapeva che tu eri fortissimo, e mi sembra anche che tu lo abbia dimostrato. Sì, quest'anno sono tornato con il team Ghinzani dentro nel campionato italiano da Misano, è partita un po' male, perché con Misano ho avuto un drive-thru e quindi non è andata benissimo, però ho sempre migliorato e sono riusciti a vincere due gare. Adesso faremo l'ultima gara e vedremo come va. Senti a Monza, la prima gara l'avrai domani, la seconda e la terza domenica, ci sono degli orari un pochettino ribaltati rispetto alle altre cose, avrai anche la possibilità di arrivare al quarto posto in campionato? Sì, noi cercheremo sicuramente di far bene e sperando di arrivare quarti nel campionato, però noi puntiamo nella vittoria assoluta per farci vedere. Monza ha già fatto una gara due settimane fa, quindi la conosco e speriamo di andare bene. Hai fatto il terzo assoluto in gara, hai anche conquistato aritmeticamente il titolo correndo con una vettura più vecchia di 4 anni rispetto a quelli che lottavano per l'assoluto. Sì, ho vinto il campionato della Coppa, F308 dall'area e poi domenica sono arrivato terzo in assoluto, quindi sono contento. Ti penti di essere entrato nell'italiano di Formula 3 così in ritardo rispetto ad Agostini, a Maizano, a Civer che sono i piloti che ti stanno davanti in classifica? Sicuramente vedendo i risultati che ho fatto potrei essere tra i primi tre e giocarmela a Monza, però è andata così e mi accontento del mio campionato spagnolo che ho vinto. Senti Paolo Filisetti, lo sai che l'anno prossimo Kevin Giovese probabilmente lo vedrai a tutti i Gran Premi europei perché dovrebbe debuttare in GP2. È un altro dei giovani raccomandati. Benissimo, ne occorrono degli italiani che spingano, quest'anno abbiamo avuto la fortuna e la capacità che Valsecchi è diventato campione della GP2, quindi se ne abbiamo altri che possono lottare per le posizioni di testa questo è meglio e soprattutto che riescano a creare quella filiera anche di giovani piloti italiani che adesso sta mancando per accedere alla Formula 1. Tu proverai la GP2 fra breve? La proverò il 30 al 31 ottobre a Barcellona col team Lazarus e poi vedremo se riusciremo a fermare per tutto il campionato. Ne parliamo subito dopo perché adesso apriamo subito la lunga fascia che riguarda il Gran Premio di Corea di Formula 1. Paolo Filisetti, c'è stato un ribaltone come c'è stato tutto sommato Marco, un ribaltone anche nel mondo del mondiale di motociclismo. È stata una domenica in cui tutte quelle che erano le certezze e le sicurezze sono venute a meno. Mentre Dani Pedrose è ancora all'attacco di Jorge Lorenzo, Sebastian Vettel ha invece effettuato quel sorpasso che credevamo fosse possibile e lo avevamo già detto nella precedente puntata. Questa Ferrari, tantissimo sviluppo, ricordiamoci che partiva con un distacco di un secondo, un secondo e mezzo nelle prime gare, mi sembra che abbia poco da dire. O c'è la speranza di poter giocare su qualche evoluzione? Io obiettivamente credo che il margine, non tanto il margine di sviluppo complessivo del progetto perché quello magari lo si riverserà sul progetto 2013, ma dello sviluppo attuale per le ultime quattro gare si è veramente limitato per quanto riguarda la Ferrari. Soprattutto il problema è che tu hai sviluppo se sei in grado di portare puntualmente e di poi mettere in pista puntualmente le evoluzioni. La Ferrari, come sappiamo, soprattutto negli ultimi Gran Premio, ha avuto difficoltà nel utilizzare in gara quelle evoluzioni che aveva preparato, ma che alla fine si sono rivelate non essere così performanti con i dati della Galleria del Vento e che non corrispondevano alla prestazione in pista. Quindi questo è il dato più preoccupante. Poi il ribaltone in classifica in realtà è cambiato poco, cioè sei punti di vantaggio non sono molti, però quello che è preoccupante è il trend. La Red Bull oramai ha un trend positivo e la Ferrari deve per forza vincere delle gare perché non può adesso accontentarsi dei piazzamenti. Ho letto nella pagina sportiva del Corriere della Sera un pezzo in cui si diceva che non sarà più una questione di evoluzione, ma sarà una questione di adrenalina di uomini. Volevo chiedere a Kevin Giovesi, sì tu ci puoi mettere tutto l'impegno che vuoi, tutta la cattiveria che vuoi, ma se la macchina ha un decimo di differenza rispetto a quella del tuo concorrente, le cose si fanno difficili. Sicuramente la macchina fa l'80%, poi il 20% lo mette il pilota. Se gli manca qualcosa è difficile recuperare il gap, soprattutto in Formula 1 che tutti i piloti sono al limite e è molto dura. Anche perché, lo chiedo anche a Marco Masetti, si sta parlando di un avversario di Alonso che non è sproveduto, è il due volte campione del mondo uscente. Ti vai a confrontare non con un pilota normale, ma comunque uno della tua stessa razza, un campione. Il problema sia della Formula 1 che della MotoGP è che quando sei arrivato al vertice di queste due categorie, di questi due sport, vuol dire che sei veramente bravo. Quindi ti scontri con uno che perlomeno è al tuo livello o veramente poco distante. Significa che quello che succede magari nei campionati minori, non me ne vogliano i piloti dei campionati minori, è che si riduce drammaticamente la possibilità di errore. Quando si scontrano due top, faccio l'esempio classico di Lorenzo e Pedrosa, non si vede un errore in una curva nelle libere, nelle qualifiche e nelle gare di tutto un weekend. Quindi significa che questi non sbagliano mai e non puoi giocare sull'errore di un altro, magari in un campionato dove c'è meno perfezione. Quindi le moto non sbagliano, i piloti non sbagliano, chi riesce a rosicchiare dei punti a un altro facendoli in seguitore in Formula 1 è successo il ribaltone. In MotoGP potrebbe anche succedere quando uno riesce a fare questa grande impresa e bisogna davvero battergli le mani. Paolo, in molti dicono che ad Alonso mancano i punti di Spa-Franco-Champ, manca probabilmente anche qualche punto in più di Monza. Però vorrei anche ricordare che a Vettel manca sicuramente la vittoria di Valencia e manca anche qualche altra cosa lasciata per stare. Ma io se vogliamo parlare di sfortuna penso che Alonso e Vettel abbiano dato entrambi e che siano in pareggio entrambi con la sfortuna. Quindi due gare perse da Vettel, due gare perse da Alonso, diciamo come zero in classifica. Quindi nell'economia di un campionato ci sta. Penso più che altro che il ribaltone sia un ribaltone di carattere tecnico. Ovvero la Red Bull nella parte mediana del campionato aveva una grossa difficoltà. Questa difficoltà è stata risolta e quindi il problema è che si è trasferito tutto nella posizione in classifica. La Ferrari in questo momento deve cercare qualcosa in più soprattutto per fare delle qualifiche vincenti e partendo in testa nella primissima file è l'unico metodo per poter poi dopo caratterizzare delle gare con possibilità appunto di controllare. Altrimenti se è ad inseguire in questo momento penso sia difficile superare. Kevin, quanto sono importanti i test per i piloti? Cosa che a voi giovani mancano in Formula 1 almeno? Sono importanti per capire la macchina, soprattutto quando cambio categoria. Io nel Formula 3 ne ho fatti tanti perché erano liberi, però c'è anche un problema di costo e è importante sempre girare perché è sempre più feeling con la macchina e è sempre più forte. La Ferrari sta pagando tantissimo questa regolamentazione, la legge è uguale per tutti. Oramai lo stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione, dalle primissime puntate, purtroppo il regolamento ha inciso moltissimo sulla Ferrari. La sua metodologia di lavoro si basava sui test in pista, su tantissimi chilometri e la filosofia di lavoro della Ferrari è stata ribaltata ma senza adattarsi a quelle che poi sono soprattutto lo sfruttamento delle simulazioni. I team inglesi ci riescono molto di più, la Red Bull ha un gruppo di ingegneri giovanissimi, abilissimi nello sfruttare e nel creare gli algoritmi adeguati per le simulazioni e si è visto. È stato un gran premio noioso, un gran premio monotono, determinato anche come sempre dall'usura delle gomme, abbiamo visto dei sorpassi anche belli, corretti, a parte la foglia di Kobayashi all'inizio. Però è stato un gran premio che secondo me ha sancito definitivamente l'uscita delle McLaren dalla lotta per il titolo. Che cosa sta succedendo? Da quando hanno annunciato che Hamilton va in Mercedes ci sono tantissimi problemi. Sì, ma non credo che sia la classica situazione che si aveva quando c'erano ancora i giapponesi in Formula 1, cioè con McLaren Honda, allora se magari il pilota decideva di cambiare casacca sicuramente aveva dei problemi di elettronica o qualcosa del genere, comandati dai box. No, qui io penso più che altro che si è proprio cambiato il mordente della squadra, la squadra sta vedendo che il suo pilota di testa lascerà il team e nello stesso tempo sono stati, cosa strana, meno precisi proprio anche nella gestione tecnica della macchina negli ultimi gare. Cioè infatti hanno avuto tantissimi problemi, anche piccoli, che hanno bloccato i loro piloti. Sì, che Hamilton, poveraccio, ha avuto tantissime erogne in corsa, perché molti hanno detto, ah, non ha più voglia, no, in realtà ne ha avute di cotte e di crude. Di crude in tutti i weekend, sì. Quindi anche lui non può essere messo sul banco degli imputati. Assolutamente. A valori tecnici ormai stabilizzati non corrisponde la stabilizzazione dei valori dei piloti, perché in ogni gran premio continua sempre a esserci il fenomeno di turno. Lo è stato Maldonado. Qui, secondo me, il fenomeno è stato Hulkenberg. Beh sì, infatti, beh, Hulkenberg è stato veramente bravissimo e questa gara ha coinciso praticamente con la sua firma in Sauber per il prossimo anno. Anzi, il giorno successivo al Gran Premio, quindi lunedì scorso, ha firmato per Sauber, l'anno prossimo sarà un pilota Sauber. Questo a discapito di Kobayashi, che in realtà invece ha firmato le sue dimissioni in occasione del Gran Premio di Corea con l'incidente al primo giro. Di massa parleremo nel secondo blocco. Un po' annuncio che ormai da tempo attendavamo e che avevamo anche anticipato. Nel mercato globale c'è una grande incognita riguardo l'anno prossimo nei confronti della Forza India, che sembra avere dei grossi problemi economici, di pagamenti, di segni mai ricevuti, ha dei problemi di giustizia, cioè dei problemi legali, V.J. Maglia, il patron, difatti bisognerà vedere se sarà in India o meno, perché addirittura si parla di un spiccato ordine di cattura e quindi probabilmente non sarà nel suo paese. Bene, adesso un attimo d'attesa, poi rientriamo e partiremo subito con le pagelle del Gran Premio di Corea. A tra poco. Sebastian Vettel, voto 10. Terzo successo consecutivo per il tedesco. Si invola già alla prima curva e controlla sapientemente gli avversari e le gomme. Ruba da Lonzo la leadership in classifica, ma più che altro ora sembra anche sicuro. Spietato Terminator Fernando Alonso, voto 9. Non partendo in prima fila cerca subito di guadagnare posizioni, ma forse le sue scelte di assetto lo rendono meno veloce degli avversari diretti. Limita i danni, ma d'ora in poi deve vincere sin dalle qualifiche. Under Pressure Felipe Massa, voto 8. Di più non poteva proprio fare. Dà il massimo e fa vedere una F2012 addirittura più veloce di quella del suo compagno di squadra. Corre la sua migliore corsa della stagione. Si è guadagnato così la riconferma. Concentrato e solido. Marco Ebber, voto 7. È veloce soprattutto in qualifica, ma poi in gara non regge il confronto diretto con Vettel. Non sbaglia, ma nello stesso tempo non ha acuti esaltanti. Taxista Kamui Kobayashi, voto 4. In una domenica in cui Grosjean Cimabue ne fa una, ma non ne sbaglia due, il Koba si sostituisce al francese e fra strike ai danni di Button e Rosberg. Forse ha inciso sul morale la mancata riconferma in Sauber. Lost in Translation Mi è piaciuto molto Lost in Translation, anche io la penso con te. Paolo, quanto conta Kevin correre senza avere la serenità necessaria? Tu l'hai vissuto l'anno passato? Sì, sì, ho avuto un anno un po' difficile e quando non hai il feeling con la squadra, con l'ingegnere, non riesci mai a fare quello step in più per andare magari sul podio o prendere punti. Anche perché ricordiamo, Kevin Giovesi nel 2010 era stato il miglior rookie della Formula 3 italiana. L'anno scorso ti eri presentato nel ruolo di favorito o tra i favoriti e purtroppo sono arrivate solamente due vittorie. Sì, l'anno scorso mi aspettavo un po' di più, però è andata così e è andata meglio quest'anno. Dopo parliamo delle tue imprese della seconda parte di stagione. Segnatelo questo nome ragazzi perché lo seguo, no, ammetto che lui l'ho sempre seguito perché Kevin, uno si chiama Kevin o va forte o è ridicolo Marco, non hai la mezzavia. Anche tu sei vittima nel nome di una generazione di babbi che c'erano innamorati di Kevin. Ti chiami Kevin? No, non penso, mia mamma è un po' estrosa, allora mi ha chiamato Kevin. Sei l'unico che non si chiama così. Di solito nascono, gli mettono il numero 34 nella culla e sono anche dei randi di qualche anno prima, o rendi, secondo ci sono francesi italiani, da mamola, di Valentini ce ne sono molti, il nome pesante, delle volte aiuto però. Della riconferma di massa ne avevamo già parlato, l'avevamo già anticipata, nulla di nuovo sotto il cielo occidentale, con grande dispiacere di Fabio Di Palma, ma ho visto anche sui social network molti scandalizzati perché volevano chi questo, chi quello, chi quell'altro. Un team è una cosa un perino diversa dai desideri dei tifosi. Allora Paolo, domanda molto scomoda. Com'è possibile che massa al quale è stato detto di tutto, all'improvviso si metta a andare? Ormai sono già parecchi i Gran Premi in cui sta dimostrando di essere ritornato quello che è sempre stato. Non un campione, comunque un buon pilota. Non è che anche in Ferrari abbiano lavorato per metterlo più a suo agio di quanto non sia stato ad inizio stagione? Ma questo sicuramente. Lui ha avuto delle grosse difficoltà all'inizio stagione, soprattutto quando la macchina non era per nulla competitiva, o comunque non era la macchina evoluta di oggi. Adesso si trova sicuramente più a suo agio, secondo me ha imparato anche a settare la macchina, perché se andiamo a vedere il Gran Premio di Corea era particolare vedere che la più veloce delle due Ferrari in pista fosse la sua. Sicuramente era settata molto meglio, quindi ha imparato a sfruttare meglio i pneumatici e credo che sia cresciuto nel corso della stagione anche cercando di capire o di far capire ai tecnici Ferrari quelle che erano le sue esigenze con questa macchina, però è difficile da guidare in determinate condizioni. Quindi sicuramente è cresciuto. Poi sai, la casualità non esiste in Formula 1. Penso che sia stato un lavoro step by step e anche un convincimento anche al suo personale a livello psicologico. In un certo periodo il Lost in Translation era stato lui durante la prima parte della stagione, poi si è ritrovato. C'è da dire anche un fatto, Stefano Domenicali è un abilissimo team principal, perché non è una persona che urla, non usa il pugno di ferro, però riesce a leggere molto all'interno di quello che è l'animo dei suoi collaboratori e poi dei piloti che scendono in pista. E credo che abbia dato quella giusta motivazione a Massa per dirgli guarda abbiamo bisogno di te e poi la tua riconferma dipende solo ed esclusivamente da te. Noi quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Kevin, ti aspettavi un nome nuovo o puntavi su Massa? Io puntavo un nome un po' più giovane, perché è largo i giovani e ormai dopo due anni di crisi non doveva andargli un'altra scelta. Però se l'hanno fatto... Chi avresti voluto che ti sarebbe piaciuto al volante della Ferrari? O Hulkenberg o secondo me un pilota nuovo preso dai formule minori, sicuramente. E chi c'è? Falsecchi... Subito in Ferrari? No, vabbè, però un pilota veloce come Hulkenberg secondo me faceva comodo. Ecco, questo Hulkenberg che ha dimostrato anche in passato sia col Formula 3 con la 1 Grand Prix quando arrivò o vinse subito il GP2 dominata, tutti lo vogliono, alla fine Williams l'ha lasciato a piedi dopo la pole position del Brasile due anni fa e ha perso una stagione. Quest'anno secondo me è andato molto forte, doveva andare in Ferrari o da qualche altra parte, alla fine si accontenta, tra virgolette, della Sauber. Non è che sia come la bella Teresina, come si dice nel proverbio. Tutti la vogliono ma nessuno se la sponda. E la bella Cecilia. Probabilmente è proprio così. Io credo che Hulkenberg abbia un grandissimo talento, non sono l'unico a crederlo, sono in tanti. Anche se parli con Dallara ti dice, lui che ci ha lavorato con la GP2 così, che è uno molto molto forte, bel talento. Credo che però appunto nelle economie di un top team, rispondendo in un certo senso a quanto ha detto lui prima, bisogna effettivamente vedere il ciclo, qual è quello che ha deciso la Ferrari e secondo me lo si capirà nel 2014, per quel motivo non è stato preso un tipo come Hulkenberg. e credo che sia stato anche giusto. Tu hai avanzato un'ipotesi che secondo me è quasi certezza. Questo annuncio che si è protratto quasi fino alle calende greche, è arrivato tardi perché la Ferrari forse aveva anche un'altra pedina sulla quale giocare. È una teoria la tua? È una teoria, non è la mia teoria personale, è una teoria che abbiamo elaborato io e qualche collega durante i Gran Premi e durante anche i tratti in aereo, ogni tanto ragioniamo su queste cose, su queste amenità, e dicevamo, ma guarda, durante la stagione la Red Bull non è andata benissimo, quella che adesso sta ritornando a livello dominante non era perfetta. e sicuramente Vettel non era per niente contento della monoposto. Questo poteva far avanzare anche l'ipotesi, chiaramente macroscopica, che Vettel se la Red Bull non fosse stata competitiva, non avesse ripreso il ruolo di essere una macchina mattatrice, avrebbe potuto fare il grande salto, cioè il salto in rosso alla fine di questa stagione. Quindi magari troncando il contratto con Red Bull un anno prima... E a l'onso lo avrebbe accettato? Io penso di sì. Ma tu cosa pensi Kevin? Che il compagno di squadra non fa comodo, cioè più che altro se va più forte di te, però ha uno stimolo in più anche per andare forte, vedere i suoi dati e migliorare la squadra. Ma uno come a l'onso come l'avrebbe presa? Non conosco l'onso però penso bene perché è un campione, quindi sopporta tutte le pressioni. È un po' come toccherà Lorenzo l'anno prossimo con Valentino Rossi, ma intanto deve pensare a una pressione forse in attesa, quella di Dani Pedrosa. Secondo me andando al prossimo anno a Rossi e Lorenzo, che ritornano insieme, un vecchio matrimonio, delle volte le minestre riscaldate non sono buonissime da mangiare, però sono entrambi adulti, vaccinati e due top. Due top vuol dire che sanno benissimo come gestire una rivalità forte. Diciamo che ai tempi, diciamo la stagione 2009-2010, quando si parlava tanto del muro fra i due box. Sembrava il muro della casa di Samuel Beckett tra lui e la moglie. O anche il muro di Berlino, in realtà il muro venne retto non tanto dai piloti e dai rispettivi clan, quanto dai gommisti. Uno correva con Michelin, l'altro con Bridgestone, e gli ultimi segreti dopo la guerra atomica sono quelli delle gomme da corsa nel mondo delle moto. Quindi nessuno voleva che gli altri sapessero, ad esempio, a che temperature funzionavano le gomme e in quale giro si scaldassero. Era questo il grande problema. Adesso fondamentalmente a ruoli invertiti, Lorenzo è molto più forte di Rossi. Rossi si deve riguadagnare dello spazio. Quindi sarà un po' di Pepe in più. Il vero Pepe è quello che c'è adesso. Come dicevi tu, perché qui ci sono due piloti, Lorenzo e Pedrosa, che praticamente giocano a ruoli invertiti. Cioè Lorenzo, che tendenzialmente era un pilota d'attacco, oggi è diventato uno dei più bravi difensori del mondo. Si fa venire in mente Beckenbauer nel calcio classico. Sempre a punti. Male che vada, lui rinuncia a vincere anche a casa sua. Lo ha fatto, ha mollato, ha visto che prendeva un rischio e ha lasciato. E lascia perché giustamente si fa così. Pedrosa è stata la sorpresa. È stata la sorpresa, secondo me, per chi guarda superficialmente alle gare come sono. Pedrosa è finalmente a posto. Pedrosa è uno che va forte. Uno che va forte attacca naturalmente, perché vuole stare davanti. Magari Pedrosa non sarà ancora e non lo sarà mai probabilmente un fighter da fare a sportellate per tutta una gara. Ma questo non serve per andare forte. Lui va forte e secondo me sta mettendo una pressione fortissima a Lorenzo. Lorenzo riesce a rimanere lucido, però come tutti i piloti forti. Ogni tanto ha bisogno di vincere, perché altrimenti deve fare troppo il ragioniere, un mestiere che gli riesce bene, ma non è il suo vero mestiere. Kevin, tu hai già espresso prima della trasmissione per chi ti fai? Io sono tifo per Pedrosa perché sono contento. Non ha mai vinto un mondiale e sarei contento se lo vince. Però tifoso, tifoso, sono tifoso di Valentino. Quindi... Valentino deve aspettare, secondo me. Avrebbe una voglia, Valentino, di fare l'arbitro della situazione. Ruolo che era dato, tutti sognavano, anch'io, il ritorno di Stoner. Stoner che diventa la bestia nera, fa soffrire tutti. Stoner in realtà non è ancora messo bene. Giù d'allenamento. Giù d'allenamento e poi ha effettivamente dolore. lui si è maciullato una caviglia, non è che ha una fratturina. Lui proprio se l'è maciullata anche a livello di legamenti. E quindi fa fatica nella moto. La MotoGP è uno sport fisico, usi le gambe, spingi. Quanto conta, Marco, la pressione dei media spagnoli su Pedrosa e su Lorenzo e quanto conterà alla fine? Si sarà uno dei due che potrà innervosirsi? No, no, gli spagnoli su questo sono bravissimi. E io continuo a dire il triplete che hanno fatto a Moteggi tre sul podio della MotoGP e tre anche in Moto2, per non farsi mancare niente, è tutto meritato. Perché si sanno muovere bene e i due clan si rispettano. E poi lo sanno tutti. La Spagna fa il tifo per Dani Pedrosa. Il resto del mondo e rari spagnoli per Orghe Lorenzo. che in patria è veramente uno dei piloti meno amati e supportati. Forse perché ha un carattere molto silenzioso, ma ne parleremo dopo e inizieremo anche per le moto con le pagelle di Moteggi. Dani Pedrosa, voto 10. Può solo vincere. Dani non si fa pregare e si libera senza problemi di Lorenzo, trionfando sulla pista di proprietà Honda. Padrone di casa. Orghe Lorenzo, voto 7. È l'unico a tenere il passo di Pedrosa. Di più non può. O non vuole. Il suo vantaggio gli fa preferire la ritirata all'attacco e la prudenza al rischio. Non esalta. Ragioniere. Alvaro Bautista, voto 8. La riconferma da parte di Gresini gli ha dato una bella motivazione. Il podio di Moteggi, l'ingresso nella storia, visto che prende parte al triplete che esalta la Spagna. Emergente. Casey Stoner, voto 8. Corre vistosamente menomato e dolorante. È lontano dai suoi ritmi abituali. Cose che capitano dopo un infortunio pesante. Ha bisogno di altro tempo per guarire. Sofferente. Valentino Rossi, voto 6. Dice una cosa che dovrebbe far pensare Paecchio a Borgo Panigale. Questo è il nostro livello. Ovvero un secondo al giro. Che paga. Marquez, voto fate voi. Che voto dare a un pilota professionista che si dimentica di inserire la prima al via ma che rimonta a quasi 30 posizioni superando come se fosse in un videogioco. Mostruoso. Mostruoso però i suoi rivali dicono che ha un motore particolare. I suoi rivali... Devono stare zitti? Devono, no. Mi ricordano un po' il criceto. Rosica, rosica, rosica. Lui ha una gran moto perché il suo team è un team da MotoGP lavora benissimo. Lui è leggero però io lo seguo dal debutto con molta attenzione perché si vede che è qualcuno che ha un segnino di più degli altri. Lui arriva forte perché esce forte dalla curva perché ci mette un secondo in meno degli altri a girare e soprattutto ha fatto vedere... Io personalmente una cosa così l'avevo vista fare parzialmente e con caduta a Valentino Rossi il primo anno in Qatar quando venne penalizzato per la questione col suo team ripulirono la griglia di partenza dalla sabbia e fece una bella rimonta saltando nelle prime cure due o tre piloti. Marquez alla prima cura ne ha passati nove alla seconda sette e poi... lui passa con cattiveria grinta, velocità anche questa storia di dire ma lui è un predestinato lui è un pilota onda lui è un pilota che ha qualcosa di più. Vige sempre la buona vecchia regola se c'è qualcosa che non vi convince cari rivali cari team manager rivali si fa reclamo del resto il sorteggio dei motori è pubblico viene fatto... ci si può andare anche come osservatori non è una cosa una cosa segreta i cari sono due o lui è veramente fortunato oppure bisognerebbe anche chiedersi lui Marquez è arrivato dove è arrivato e arriverà al team ufficiale Honda perché è il più veloce pilota della sua generazione e probabilmente del futuro. Tu quindi credi che per lui il futuro in MotoGP sarà un futuro importante a livello di quello di Pedrosa di Lorenzo se non di più? Lui è è stato portato in MotoGP per questo Nakamoto che è il numero 2 dell'HRC ed è il numero 1 sul campo si aspetta che lui lotti per il podio dalla prima gara che è quello che fece al debutto in MotoGP il signor Orgio Lorenzo cioè i piloti forti quelli tirati su fin dalla culla per essere vicenti e sempre seguiti in un certo modo hanno questa caratteristica cioè a uno come Lorenzo nessuno ha chiesto beh dai parti con calma e poi aspettiamo un anno no gli hanno chiesto subito di andare forte e lui lo ha fatto stesso discorso per Marquez ma se andiamo ancora un po' indietro ricordiamoci l'arrivo di Valentino Rossi in 500 poi in MotoGP nessuno gli disse dai poverino fai un anno e poi impara un po' no questo andò dentro cercando di fare il suo meglio il campione anche da giovane quando va dentro per fare il suo meglio tira a vincere non è che dice che bello ho fatto settimo come adesso se le dichiarazioni di Valentino Rossi lo chiedo a Kevin Giovese mi sembrano essere abbastanza scontate cioè il limite della Ducati ci puoi mettere chiunque può migliorare di un decimo peggiorare di un decimo ma è quello più di tanto la moto non può dare o pensi che invece sia Rossi che non ha più voglia le solite storie no Rossi non penso che non ha più voglia però facendo il confronto tra Stoner e Valentino immediato subito il test dopo ha preso un po' e quindi può darsi che Rossi non digerisca la Ducati o non lo so penso che si trovi meglio sulla Yamaha che è più guidabile più dolce che va bene più per la sua guida Marco diplomatico Kevin parla parla come un manager della Ducati no la Ducati ha fatto interessante ogni tanto nelle gare è vedere i blocchi delle gare noi abbiamo visto a Misano la Ducati arrivare sul podio gli abbiamo battuto le mani va detto la Ducati aveva provato prima del Gran Premio gli altri non erano riusciti non solo a fare i test ma nemmeno a provare durante il weekend di gare per il maltempo e probabilmente la Ducati si è avvantaggiata di questo ad Aragon è subito rientrata nei limiti che ha questa moto in Giappone è successa una cosa però che deve far pensare quando inizio gara si vedeva Nakazuka che è il test rider della Yamaha un buonissimo pilota un bravo ragazzo magari uno anche che potrebbe fare delle buone prestazioni attaccato dietro le Ducati e Aiden per riuscire a chiudere la gara davanti a lui si è impegnato al massimo beh questo ti fa capire che livello la Ducati adesso è l'anello se non ha una pista sulla quale si è preparata è l'anello di giunzione fra le MotoGP e le CRT galleggia lì nel mezzo diciamo è un bene che siano rimaste poche gare siano rimaste tre gare e poi si chiude questa bruttissima annata allora a questo punto ci può dire bene facciamo la rifondazione abbiamo i piloti giusti perché c'è un macinatore come come Niki c'è Dovizioso che ha la capacità di di selezionare un tipo di sviluppo e di interagire bene con gli ingegneri perché l'ho fatto in onda l'ho fatto in Yamaha ed è il momento giusto così non puoi andare avanti e noi speriamo che migliori anche la situazione nel campionato italiano rally che si è concluso lo scorso fine settimana rally di Sanremo Umberto Scandola ha sbattuto di fatto la prima giornata vittoria ma era già preannunciata di Andreucci nel campionato italiano di basso nella gara con questa fiesta che non finisce di sorprendere adesso ci guardiamo in servizio curato da Matteo Bacci e poi parliamo un poco con lui Se il risultato a tavolino del rally di San Martino di Castrozza aveva dato a Umberto Scandola e a Scoda la speranza di riaprire il campionato italiano rally è bastata la prima prova speciale del rally di Sanremo valido anche per l'Intercontinental Rally Challenge per chiudere definitivamente il discorso nel corso della prova speciale d'apertura col di Rodi infatti il veronese ha commesso un errore in uscita da una curva a sinistra sbattendo con la posteriore a destra contro un rail facendo afflosciare la gomma un ulteriore errore nella speciale successiva poi lo metteva definitivamente fuori dei giochi dialibra quindi per Paolo Andreucci che arrivando quarto tra gli iscritti altri colori si sarebbe portato a casa matematicamente il settimo titolo il toscano calcolatore come non mai non ha quindi mai spinto per tutta la gara lasciando la lotta per la leadership nella classifica assoluta a Gian Domenico Basso vincitore di 5 speciali e Ian Kopecchi autore di 4 scratch con l'italiano che si è aggiudicato la gara con un vantaggio di 35 secondi e 7 decimi nei confronti del cieco gradino più basso del podio per Alessandro Perico sempre veloce sulle strade della riviera che si è aggiudicato anche la vittoria nella speciale numero 6 passo Teglia buona gara per Stefano Albertini al via con una Peugeot 207 Super 2000 messa a disposizione dall'organizzatore dell'Intercontinental Rally Cup e Twister Corse come premio per la vittoria nella classe R3 della serie nazionale quinto assoluto quarto tra gli iscritti al CIR ha chiuso come da programma Paolo Andreucci che in coppia con Anna Andreussi si è laureato campione per la settima volta non è bastata invece la sesta vittoria su sei gare disputate tra gli iscritti allo Junior per Simone Campedelli e Danilo Fappani che a causa dei coefficienti che premiavano i partenti con una vettura di classe R2 hanno dovuto cedere il titolo degli Under 28 ad Andrea Nucita e Giuseppe Princiotto al via con la C2 della VF Corse prossimo ed ultimo appuntamento del campionato italiano Rally 2012 in Costa Smeralda il fine settimana è del 25-27 ottobre una gara suggestiva ma che purtroppo non avrà più niente da dire per la lotta al titolo e siamo in collegamento lui si trova al Rally d'Italia che si sta disputando naturalmente in Sardegna con Matteo Baci allora è finito virtualmente il campionato italiano penso il campionato italiano Matteo più dimesso delle ultime stagioni ciao Guido ciao a tutti sì un campionato italiano un po' sottotono diciamo che il risultato del Rally di San Martino di Castrozza aveva un po' riaperto le speranze in tutti noi anche se poi purtroppo un incavolatissimo con se stesso Umberto Scandola l'ha ripetuto più volte anche nel suo profilo di Facebook nel corso di questa settimana di fatto si è tirato fuori dai giochi come detto nel servizio anzitempo e quindi via libera per Paolo Andreucci e Danna Andreussi che si sono portati a casa il settimo titolo un titolo che insomma già da inizio stagione era abbastanza scontato e poi dico purtroppo per lo spettacolo del campionato è andata come ci si aspettava Matteo entrambi siamo reduci da quella bellissima manifestazione che è stata a Rally Legend dove abbiamo visto tantissima gente che cosa e poi arrivare in un'atmosfera più soft come quella del campionato italiano ti fa pensare che forse l'anno prossimo le cose debbano cambiare un poco sì anche se ritengo in Rally Legend una parentesi un po' anomala ormai purtroppo aggiungo perché è un po' un caso più unico che è raro vedere così tanta gente intorno ad un evento realistico neanche in gare di campionato del mondo e lì ha ragione un po' munari a dire finché si costruiranno questo tipo di vetture e non ci sarà una varietà anche a livello regolamentare la gente verrà sempre meno perché in effetti un conto è vedere tante vetture e una diversa dall'altra anche come concezione sfidarsi un'altra vedere vetture che più o meno sono tutte simili l'una all'altra al di là dei grandi nomi mi permetto di sentire nel senso che al rally legend ha debuttato l'apolo vrc che è stata una delle vetture più viste fotografate filmate di tutte pur essendo in mezzo a un parterre di assolutissimo rinievo poi l'altro lato della medaglia della grande libertà tecnologica che poi diventa difficile di lanciare le prestazioni di vetture tecnicamente troppo diverse l'una dall'altra quindi non mi trovo assolutamente d'accordo con il discorso di Munari ritengo che siano altri gli ambiti in cui si debba agire per provare a ridare nuova linfa al movimento realistico c'è Masetti che sta scuotendo la testa perché Marco? perché succede quello che è successo in MotoGP corrono moto tutte uguali tecnicamente invece un altro motivo di interesse forte oltre alla sfida fra i piloti è vedere non so una due tempi contro una quattro tempi una due cilindri contro una quattro cilindri magari facendo aggiustamenti di peso e lasciando molta più libertà ai tecnici altrimenti ci si fossilizza su dei concetti e dopo la prestazione la vai a cercare è quello che è capitato già in Formula 1 esattamente è quello che capita in Formula 3 ma la Formula 1 si salva perché ha dei prototipi praticamente quindi riesci ancora a differenziarti con dei costi statosferici tu invece con le macchine che hanno delle fish di omologazione chiaramente nei rally non lo riesci a fare Matteo puoi restare in linea noi andiamo in pausa pubblicitaria poi riprendiamo subito con te e proseguiamo la nostra chiacchierata sui rally assolutamente a dopo allora dopo anche ai nostri telespettatori stavamo parlando di rally di alcune critiche motivate che ha fatto anche Sandro Munari ma le fa da parecchio tempo nei confronti di come è strutturato proprio a livello tecnico e regolamentare ad esempio il mondiale rally quasi un monotipo di vetture che attirano fino a un certo punto ne parlavamo Marco Masetti e con Matteo Bacci che è collegato da rally di Sardegna la situazione del mondiale però Matteo per l'anno prossimo inizia a farsi preoccupante perché la Ford e lo si sapeva ha dichiarato che non correrà più la Mini ha dichiarato che non correrà più la Citroen probabilmente diraderà a poco a poco il proprio impegno rimane solo il nuovo arrivato la Volkswagen il nuovo arrivato Volkswagen ma anche Hyundai che ha già annunciato che arriverà sì ma nel 2014 sì fine 2013 per essere pronta nel 2014 però nel 2013 comunque Citroen ha garantito la presenza pur con un budget ridotto così come N Sport quindi le Fiesta comunque gireranno e anche le Mini perché è stato un comunicato stampa quasi contemporaneo è uscito quello di BMW Mini dove appunto veniva annunciato il completo disinteresse ufficiale per quello che riguarda i rally e contemporaneamente Progrive però ha detto ok loro non danno più supporto economico daranno supporto tecnico e noi ci impegniamo ad essere nel campionato del mondo anche l'anno prossimo quindi insomma sì ok non sono ufficiali ma l'impegno quantomeno ci sarà per quello che riguarda il Mondiale dell'anno prossimo poi è arrivata la conferma in settimana del diari Matti Latvala come seconda guida di Volkswagen quindi il team Volkswagen sarà composto da Oje Latvala e molto probabilmente Andrea Smith Ricordiamo che il team dovrebbe essere presentato anzi lo hanno detto in sede di presentazione proprio della nuova Apollo WRC che ha debuttato lo step zero ufficialmente di fronte a tutti proprio a Rally Legend lo hanno detto i responsabili di Volkswagen Motorsport l'8 di dicembre a Monte Carlo proprio di fronte al casino di Monte Carlo e sarà annunciata proprio la squadra al completo Matteo altre news dal mondo dei rally che poi torniamo a parlare sia del Rally Legend sia di velocità con Kevin Giovesi guarda questo e poi chiudo che praticamente mi autocorreggo nel senso che il servizio si chiudeva lanciando l'appuntamento del rally della Costa Smeralda che invece notizia appunto fresca di questa settimana è stato rimandato molto probabilmente alla metà di novembre ma comunque non si farà la settimana successiva alla rally del campionato del mondo quindi un campionato italiano rally che di fatto è finito perché il titolo è stato assegnato ma che non trova una fine perché l'ultima gara è già al secondo rinvio in questa stagione c'è il rischio che molti non vadano così avanti nella stagione può essere uno dei motivi che circola sembra essere proprio il fatto che già non ci fossero tanti iscritti non ho idea spostandolo ulteriormente di un mese se la cosa possa far bene oppure oppure no sinceramente non ne ho idea va bene Matteo buon lavoro aspettiamo poi per la settimana prossima il servizio sul rally d'Italia che sta andando molto bene è giusto che l'Italia abbia una gara di campionato del mondo come è giusto che sia dato il massimo di visibilità a quella che è stata la manifestazione che avevamo presentato due puntate fa e che abbiamo seguito in questo fine settimana che è il rally legend che come vi ho anticipato ha rappresentato un ulteriore successo di pubblico perché c'erano circa 70 mila spettatori in quattro giorni di corsa compreso lo shakedown che non sono stati sicuramente favorevoli dal punto di vista meteo perché la gara si è disputata in gran parte su varie prove speciali bagnatissime ringraziamo gli organizzatori che ci hanno messo a disposizione delle immagini questa dovrebbe essere la giornata finale le immagini di un dvd che è in fase di produzione che poi potete richiedere comodamente visitando il sito di rally legend ha vinto Mark Wallen grandissimo ritorno dell'astro finlandese in una categoria questo pilota che è Tobia Cavallini con la Subaru ha dominato dall'inizio alla fine ed è stata una bella soddisfazione per il pilota toscano che da anni è grande protagonista delle corse italiane nell'altra ha vinto Gustavo Trelles ma c'è stato come accennavamo il debutto della splendida Volkswagen Polo WRC con Volkswagen Motorsport che ha deciso proprio di eleggere il rally legend come tappa italiana per mostrare una vettura che sicuramente scriverà la storia del prossimo campionato del mondo a guidarla c'era niente meno che Carlos Sainz in coppia con Luis Moia il suo fedele navigatore un Carlos Sainz che potrebbe essere aggregato alla squadra ridata della Volkswagen e prendere parte almeno ad una competizione che potrebbe essere il rally da Acropoli in Grecia che fu nel 1990 anche la sede della prima vittoria iridata di quello che è stato il più grande campione spagnolo di rally nonché anche il papà di un ragazzino Carlos Sainz Junior che sta andando molto forte nel campionato europeo di Formula 3 e che l'anno prossimo con i soldi della Red Bull e con l'appoggio di Helmut Marco potrebbe entrare anche nel mondo della GP3 quindi la categoria inferiore che prende parte e segue anche il Circus della Formula 1 Paolo Filesetti segnati il nome di Kevin Giovesi te l'ho già detto perché l'anno prossimo con la GP2 sarà uno di quelli andrò a trovare un pardo a chiudere la GP2 ma andiamo un poco a ritroso perché la scelta di andare in Spagna in un campionato quasi al debutto ben strutturato e poi di ritornare in Italia sono andato in Spagna perché a causa del budget e poi sono tornato in Italia perché Ghinzani gli era andato via un pilota e allora mi ha chiamato a me abbiamo trovato l'accordo e man mano gara in gara abbiamo rinnovato adesso avremo l'ultima gara a Monza non ho fatto i test collettivi quindi parto un po' svantaggiato però vedremo avremo un turno di libere per metterci a posto e abbiamo sempre fatto così non abbiamo fatto i test invernali qui siamo nelle immagini mi sembra di Imola che è stata una delle tue grandi affermazioni tu sei entrato a Misano Misano la dimentichiamo perché ti sei preso una penalità in qualifica sei partito ultimo poi ti sei preso un drive-thru hai fatto delle grandi rimonte poi dal Red Bull Ring sei tornato a essere il Kevin Giovesi che tutti sapevano sì dal Red Bull Ring è già andata meglio che ho fatto un podio poi abbiamo fatto due vittorie a Imola e una a Vallelunga e in gara 3 purtroppo i piloti della prima si sono toccati e manco in volto perché però ero già secondo quindi potevo magari fare una bella gara anche lì ormai hai una certa esperienza nel settore sei andato anche all'estero come giudichi il livello qualitativo dei tuoi rivali nel campionato italiano di Formula 3 visto che non essendo direttamente in concorrenza per vincere il titolo puoi anche gustarti le loro lotte possibilmente guardandoli dallo specchietto retrovisore beh ma il livello in Italia e in Spagna secondo me in Italia è un po' più alto anche se ci sono meno macchine però in Spagna ci sono certe piste che sono migliori perché dove corre la Formula 1 e quindi già puoi impararle in caso se devi fare GP3 GP2 o Formula 1 se tu dovessi scommettere su un tuo rivale che vince a Monza il campionato no sì che vince il campionato oppure proprio come carriera al di là di Kevin Giovesi uno di quelli che corre in Formula 3 italiana oggi come oggi che lo vedi in alto professionista con la P maiuscola potrebbe essere Maesano visto che è dentro nel driver academy e magari ha più una strada spianata rispetto a noi e invece per il campionato penso che Agostini sia il favorito visto che adesso gli hanno ridato anche gli 11 punti tolti al Mugello e già parte con 9 punti di vantaggio quindi lui sarà il favorito Come spieghi che la Dallara che ha dominato anche quest'anno in tutto il mondo in tutta Europa sia andata proprio in crisi in Italia? Eh la Migal ha lavorato molto bene quest'anno soprattutto ha una caratteristica che va molto forte nel retilino quindi a Monza sarà avvantaggiata e la Migal poi non si è mai fermata di far sviluppo e ha lavorato molto bene col team JD e è stata forte quest'anno Cosa ti aspetti dal tuo debutto come tester in GP2? Ma di imparare a guidare una macchina con 600 cavalli perché non l'ho mai guidata Massimo ho guidato il Formula 3 con 250 cavalli e poi di crescere è molto modesto Paolo Kevin perché sembra che non abbia fatto niente invece questo è arrivato nell'italiano se li hai messi dietro tutti sarebbe adesso il computo di punti sarebbe in lotta per il titolo tu che consiglio gli daresti? Perché il rookie test della GP2 è forse qualcosa di più interessante e profondo rispetto al rookie test della Formula 1 dove vanno piloti a pagamento non sai mai poi in quali condizioni vengono messi realmente sicuramente lui ha già tutte queste caratteristiche ottime tra cui essere modesto perché credo che sia fondamentale cercare di imparare imparare rapidamente capire la macchina e sfruttare anche questo test in previsione della stagione successiva e la difficoltà delle gare della GP2? tu che le hai seguita per forza ma le difficoltà della gare della GP2 secondo me sono gare tiratissime dove alla fine i piloti vengono buttati un pochettino allo sbaraglio e questo noi l'abbiamo visto poi di rimando anche in Formula 1 cioè con piloti come Grosjean che pensano che il Gran Premio si disputi in 200 metri quindi cercare forse di non farsi prendere dalla foga per farsi vedere dai team manager della Formula 1 ma dimostrare anche lì la stessa maturità che poi dopo i piloti devono dimostrare quando arrivano effettivamente nella massima formula quindi secondo me spingere tutto al massimo e poi darsi grandi sportellate non funziona e cercare invece di far vedere di essere un pilota che capisce già molto la messa a punto che lavora con gli ingegneri io credo che sia questo un elemento fondamentale Kevin rispetto a molti altri tuoi colleghi giovani italiani tu non hai la gran cassa cioè il tecnico sa che Kevin Giovesi è uno dei giovani sui quali si può lavorare per portarlo avanti però la gran massa delle persone non sa molto di te per quale motivo? per la tua umiltà per il fatto che tu pensi a correre a lavorare per il tuo team e basta e non curi le relazioni esterne oppure c'è dell'altro? ma di solito io penso solo a correre e mi concentro su quello vincere poi i giornali si deve occupare il mio manager o quelli che lo devono fare tu hai un manager che è abbastanza esperto da questo punto adesso mi sta curando Evone Pinton ex pilota ricordiamo lasciamo stare le sue esperienze non è pilota perché però ha lavorato tantissimo in tutti gli ambienti si è lui che mi ha aiutato a arrivare adesso a fare il test in GP2 e anche mi ha aiutato nel campionato spagnolo mi faceva un po' da coach un po' da tutto mi ha aiutato molto lo ringrazio e per adesso mi sono trovato bene con lui bell'umile ragazzo ti assicuro tu porti i tuoi della moto 3 a moto 2 io porto i me quel genere non sbaglio mai Marco guarda mi fido del tuo fiuto ma a lui e a quelli troppo umili consiglio per una volta uscite con una velina fatevi notare anche un po' non penso sia un grosso sacrificio ecco una sera in Mola ti fai paparazzare magari se ne parla un po' però in bocca al lupo perché tu stai venendo fuori col volante non con le chiacchiere però non è facile al giorno d'oggi crepi no non è assolutamente facile come non è facile puoi trovare gli sbocchi professionali una volta vinta la GP2 se ne sta accorgendo se ne è accorto Luca Filippi se ne sta accorgendo anche Valsecchi l'automobilismo è un mondo spesso ingiusto forse in moto ci sono maggiori possibilità non lo so ma ne parleremo nella prossima puntata di Parferme io ringrazio Kevin Giovesi grazie a voi Paolo Filisetti alla prossima e Marco Masetti ciao a tutti ci si vede la settimana prossima nuova Peugeot 208 let your body drive grazie a tutti grazie a tutti